La protesi di ginocchio è uno degli interventi che eseguo maggiormente nella mia carriera da ortopedico e da chirurgo protesico. È un intervento che mi piace particolarmente eseguire e ritengo che oggi non si tratti più solo di un intervento che va a risolvere il problema del dolore del paziente, ma che deve ridare al paziente un'autonomia anche a livello sportivo. Ci sono sport che si possono praticare più agevolmente di altri come il muoto, la bicicletta, la camminata, il nord walking. Ci sono altri a livello traumatico che sarebbe meglio evitare, come il calcio, il sport a rischio di contatto, quindi con le distorsioni del ginocchio. Però non nascondo che ho diversi pazienti, anche ultraottantenni, che sono tornati dopo circa 8-9 mesi dall'intervento di protesi di ginocchio a sciare con l'immensa soddisfazione sia da parte loro che da parte mia. Grazie.